e poi cosa è successo? 2.8 Thomas Grazioso 2.5 tentante a farcibare anche a Terranda che è fettura giusto? 2.8 2.8 3.8 3.8 4.8 5.8 6.8 Il numero 2 è trovato così. E infine il presidente Boris Lovetti, che ha creato veramente una bella realtà. Grazie a tutti. Numero 12, anche il nuovo presigio del movimento progressista che ha consegnato queste le targhe a entrambe le squadre. Hanno ritirato il presidente, il dottor Boris, prima della nazionale di amici, mentre il dottor Antonello Buono per la presportiva calcio-garita.